Il glaucoma è la cornea al centro di un convegno al teatro Piermarini di Matelica. L'evento, che ha visto la collaborazione tra il centro oculistica dell'Aste di Ancona e l'unità operativa di oftalmologia dell'Aste di Macerata, è stata un'occasione importante di confronto tra esperti oculisti sull'efficacia a livello internazionale della terapia medica e chirurgica. C'è questa rete importante dell'oculistica con degli professionisti di grandissima caratura, tant'è vero che qui a Matelica, come ogni anno, anche quest'anno verranno i migliori professionisti a livello nazionale da tutte le regioni italiane. Tant'è vero che questo esempio io l'ho portato alcuni giorni fa nella conferenza degli assessori regionali proprio come modello di concertazione e di cooperazione a livello nazionale. Glaucomi è il titolo del convegno che attraverso le relazioni, i dibattiti e i casi clinici presentati da qualificati professionisti vuole far luce sui progressi della medicina, in particolare quella che riguarda la salute degli occhi. L'obiettivo di questo convegno è soprattutto aggiornare i colleghi, portare cioè una cultura della oculistica, di come operare, come seguire i pazienti, sul territorio. E secondariamente c'è anche l'obiettivo di creare un clima di amicizia tra diverse realtà, perché deve essere l'espressione di una collaborazione per il territorio del centro Marche. Terzo obiettivo è stato quello di valorizzare questo territorio dell'entroterra che ha subito un terremoto e far conoscere ai colleghi che vengono da tutta Italia le bellezze della nostra terra e anche, perché no, le qualità enogastronomiche del nostro territorio. Il glaucoma rappresenta una delle principali cause di cecità, ma le patologie che colpiscono la cornea possono essere molteplici e per questo le terapie devono avvalersi ogni volta di tecniche chirurgiche sempre più innovative e precise. Sì, soprattutto una chirurgia più selezionata, nel senso che mentre una volta si effettuava un trapianto di cornea tutto spessore, oggi trapiantiamo i singoli strati della cornea, così da avere un intervento di manore impatto, di minor rischio e di minore anche complessità.